Aria Berara di dicembre di gennaio, partiamo con il volto Alda Merini, ci ha regalato la poesia di Natale con il dipinto di Angelo Celsi per Aria Berara e la poesia di Natale di Alda Merini che ci manda tutti gli anni, ce le mandate tre, per la verità noi abbiamo pubblicato una perché le altre le riserviamo comunque. Poi l'intervista al Dalai Lama di Giorgio Fornoni per le pagelle di tutti i sindaci della nostra zona, un corposissimo e speciale neve con intervista al presidente nazionale della Fisi, della potente federazione degli sporti invernali italiani, Gianni Morzenti che tra l'altro è uno scalvino che parla quindi di neve e parla anche di comprensorio scistico e poi tutte le notizie editoriali e le notizie compreso quella di politica di Valerio Bettoni che è nell'occhio del ciclone nazionale in questo momento, qui per una polemica feroce con il direttore di Libero che è Vittorio Feltri e c'è una polemica e però Valerio Bettoni che lascia spara anche contro la Lega e anche contro il governo. E poi ci sono tutte le notizie delle varie zone che adesso non posso naturalmente stare qui a riassumere, se non riassunto quella di Clusone, nasce una Clusonia in Clusone e poi l'ospedale più bello d'Italia, ahimè che ha poche probabilità di riaprire in tempo come in realtà perché i lavori fermano ancora però ci sono inconvenienti grossi a quello che ci raccontano, quelli che sono entrati e noi abbiamo delle fotografie dall'interno e poi va bene l'Overe, l'Overe e poi tutte le zone dell'alto semino, il costo Volpino dove la Lega abbandona, sbatte la porta della Giunta ma la Giunta regge e si cambierà vice sindaco e comunque l'area di Santa Martina è destinata al costo center e poi a Trescore dove scoppia la guerra fredda a scuola, revoca del vicario, dimissioni a catena, ma non tutto va male, ne sia ben chiaro, c'è pur sempre un Natale alle porte e quindi ci consoliamo anche con delle belle storie di gente che vive la nuova sobrietà che ci è imposta forse dalla crisi ma che ci fa rendere più consapevoli di quello che non sono risorse illimitate che abbiamo a disposizione e che dobbiamo usare quindi con più e alla fine capace che ci troviamo anche gusto, ad avere poco e gustarci tanto quel poco. Buon Natale e buon anno se vi riesce. Buon Natale a tutti! Ma ecco, meno male!